Vincere l'award con la coordinazione balnea è stato davvero entusiasmante. È stato un riconoscimento di tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni con Salvatori, di ricerca attenta, di sperimentazione, con la creazione di oggetti veramente belli, preziosi. Questo progetto si ispira un po' al mondo classico, in particolare anche ai progetti degli antichi bagni romani. L'idea era proprio quella di creare un oggetto un po' fuori dal tempo, una vasca classica che rimandasse a tutto questo immaginario, però che parallelamente avesse delle forme estremamente contemporanee.